Ammontano a più di 2 milioni le presenze straniere in Calabria nel 2018. Detta così potrebbe sembrare un dato più che positivo, ma spulciando i numeri pubblicati nell'indagine neboscopica si scopre che l'incidenza percentuale su base nazionale della nostra regione equivale allo 0,5. In effetti i turisti transitati nello scorso anno in località della Calabria sono stati 339 mila e se è vero che si è registrato un incremento di arrivi, si tratta di numeri irrisori rispetto a quelli registrati in altre aree del paese. Se in Veneto su 100 turisti 65 sono stranieri, la percentuale scende a 19 in Calabria, un valore di molto inferiore anche a quello di altre regioni del sud come Sicilia e Campania che vantano 46 turisti stranieri su 100. L'indagine neboscopica rivela però anche un punto di forza della nostra regione capace di trattenere più a lungo i turisti in media per sei giorni, quasi il doppio della media nazionale. La Calabria ha la medaglia d'oro rispetto a questo parametro, a questo indicatore, ogni turista straniero genera mediamente sei notti, il dato nazionale è di poco più di tre notti, quindi un dato sorprendente e estremamente interessante se si vuole misurare appunto il potenziale dell'incambio internazionale per l'immediato futuro. I risultati delle indagini spingono a pensare che lavorando sul comparto si possa ottenere un incremento di 172 mila arrivi e far crescere la spesa generata dal turismo straniero, pari oggi a 193 milioni, di oltre 130 milioni di euro soltanto pareggiando l'incidenza registrata attualmente nel mezzogiorno. Occorre a mio avviso centrare l'attenzione e la strategia di promo commercializzazione in alcune aree che sono ben più fidelizzate, quindi non a pioggia, non in maniera sparpagliata e complessiva e generalista, ma in alcune aree. Penso per esempio alla Russia, alla Polonia, all'Inghilterra, alla Germania che rappresentano zoccolo duro. Per esempio in termini di spesa turistica, Stati Uniti, Germania, Argentina, Svizzera, Francia e Inghilterra rappresentano il 70% della spesa turistica generata in Calabria.